Siamo al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, perché vogliamo trasparenza, vogliamo sapere che cosa c'è dietro al TTIP, un accordo internazionale di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Fino ad oggi le contrattazioni sono venute al segreto, nel segreto dell'opinione pubblica senza trasparenza. Il 26 novembre Manstrom, che è la commissaria che sta trattando con gli Stati Uniti questo accordo, ha promesso ai parlamentari italiani che avrebbe depositato il testo del TTIP, quello fino ad oggi negoziato, qui alla Farnesina e siamo qui per chiedere conto, perché vogliamo trasparenza. Bene, siamo appena usciti dalla Farnesina, come sospettavamo i documenti non ci sono e non hanno dato tempi certi per quanto riguarda la fruibilità, ci hanno già detto però che non saranno consultabili dall'esterno, non si potranno portare o fotocopiare, bisognerà visionarli direttamente in questa ipotetica saldittura che per ora non esiste. Abbiamo constatato che i documenti su TTIP ancora non ci sono, sappiamo però che la parola data da un commissario europeo evidentemente non conta assolutamente nulla. Il rischio è che tutte le regole del mercato interno non saranno più prese dagli Stati membri, quindi dallo Stato italiano, ma delle multinazionali e questo non possiamo assolutamente accettarlo. Quello che noi pretendiamo è trasparenza, stanno decidendo del futuro della nostra vita senza nemmeno dircelo, senza nemmeno raccontarci cosa sta avvenendo. Senza trasparenza non c'è democrazia, aiutateci a contrastare quest'Europa omertosa.